Dal 27 al 29 settembre Pescara ospiterà i campionati italiani di Coastal Roving, è la prima volta in assoluto? La prima volta in assoluto che questa manifestazione viene svolta a Pescara. Due mesi fa, a seguito dell'importanza che sta assumendo sempre di più nel panorama internazionale remiero il canottaggio costiero, la federazione ci ha chiesto di ospitare anche i primi campionati italiani di canottaggio beach sprint. che in un certo senso riprende quelli che erano stati fatti per la prima volta in occasione dei beach game del 2015. Sono valevoli per le qualificazioni mondiali che si terranno in Cina, quindi ci saranno dei senior come categorie che si batteranno, si terranno battaglia per andare in Cina a fare questi campionati. Una manifestazione importante di grosso rilievo che porterà a Pescara anche gli onori della cronaca sportiva a livello nazionale. Abbiamo predisposto un piccolo villaggio in prossimità dello Stadio del Mare con tutti i servizi e tutti gli accorgimenti per far sì che questa manifestazione abbia un notevole beneficio per la città. Inoltre utilizzeremo come location per le riunioni e per gli accrediti il Museo Colonna che è un ottimo bigliettino da visita per presentare questi campionati. Pescara si conferma una città forte vocazione sportiva, non solo calcio ma anche sport cosiddetti minori che poi tali non sono. Parliamo del canottaggio, questi campionati italiani ospitati nella nostra città sessore. Sì, Pescara è prontissima per ospitare i campionati nazionali, anzi i campionati italiani di canottaggio, il Coastal Rowing. Qui finalmente Pescara si rende protagonista perché è questa manifestazione dove ci saranno più di 600 atleti, ma non solo. 600 atleti guidati da dirigenti, da parenti, tifosi pronti a fare una grande manifestazione all'interno della città di Pescara.